E' fresco sto merlusso. Altro che, è stato pescato stamattina. Ma che stai a fare? No, gli ho chiesto se aveva visto mio zio che è morto affogato due mesi fa e mi ha detto che non lo sa perché è un anno che manca da armare. Ma che stai a dire? Stamattina era io, ma tu non mozzi, in un momento mi stai accandito. No, ma se ne va. Ma, ma, ma che io dà, Marocchi? Andiamo dal macellaro. Oh, io con te non ce vengo più a fare la spesa, eh.